Papa Francesco ha ricevuto in udienza il re Tupus VI di Tonga e la regina Ananasipao Tukuao, che hanno espresso il loro compiacimento per la nomina del primo porporato originario dell'arcipelago, Soane Patita Paini Mafi. Nel corso dei colloqui ci si è soffermati sui recenti sviluppi politici nel paese e su alcuni aspetti della vita sociale ed economica, nonché sul positivo contributo della Chiesa Cattolica in vari ambiti della società. Successivamente vi è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, con particolare riferimento agli stati insulari del Pacifico e ai problemi ambientali che alcuni di essi sono chiamati ad affrontare.